Buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Unica Talk Sondrio. Stasera parliamo di salute mentale e per farlo abbiamo invitato in studio il dottor Paolo Giuseppe Risaro, primario di psichiatria della SST Valtellina e Altolario. Buonasera dottore. Buonasera. Allora partiamo subito da un dato dottore, sarebbero in Italia più di 2 su 10 le persone che affrontano oggi un disturbo mentale, è un dato che trova riscontro anche in provincia di Sondrio? Ma dunque questo è un dato che considera quello che è il malessere generale della popolazione. Per fortuna poi di questa percentuale che sarebbe il 20%, solo una parte molto limitata c'è dei servizi di salute mentale che non potrebbero trattare tutte le persone che provano e sperimentano una qualche forma di disagio psichico, medico o psicologico. Sicuramente gli ultimi anni che abbiamo vissuto hanno aumentato di molto quello che è il malessere e la fragilità delle persone, delle persone diciamo del territorio della Valtellina così come di tutto il mondo insomma. Quali aspetti in particolare del periodo a cui fa riferimento che è quello pandemico insomma, credo di aver capito questo? Certo, esatto. Quali aspetti di quel periodo hanno generato malessere e quali fasce, se ce n'è una della popolazione, ha subito maggiormente le ricadute? Sicuramente io credo che per la mia generazione, per la nostra generazione che ha avuto la fortuna di non aver avuto una guerra in casa, come adesso c'è anche se non sul nostro territorio, però il Covid ha rappresentato un'esperienza comunque assolutamente traumatica, paragonabile a quella di una guerra e ne sono stati colpiti soprattutto i giovani, direi con delle cose, con delle problematiche specifiche ad ogni livello, ma direi proprio ogni fascia di età giovanile ha avuto i suoi traumi, le sue problematiche e le sue difficoltà ad accedere a quello che è un'evoluzione normale della persona, quindi a una crescita e una maturazione della persona. E in particolare l'isolamento sociale è quello che ha determinato poi i sintomi e i malesseri più difficili da superare e anche da affrontare. Quindi i giovani si sono poi così rintanati a utilizzare sempre di più quelli che sono i mezzi elettronici, quelli che sono gli strumenti elettronici che poi contribuiscono a confermare quello che è l'isolamento relazionale delle persone. In casi come questo appunto dei ragazzi che hanno subito l'isolamento sociale rintanandosi nei dispositivi elettronici, in una vita virtuale, il rientro alla normalità post pandemia progredisce insieme di pari passo anche con la proprio rientro nella normalità e quindi in una condizione di benessere mentale oppure può anche avere strascichi più lunghi? Ma diciamo credo che sia molto difficile generalizzare. Dipende molto un po' così dal contesto in cui la persona si è venuta a trovare. Quindi se c'era una famiglia supportiva in cui si parlava ovviamente diventa più agevole poi nel momento in cui è possibile da un punto di vista pratico uscire da questo isolamento e riprendere una propria vita. Se invece si veniva già da un contesto in cui il giovane era piuttosto diciamo poco relazionale sia in famiglia che con i suoi coetanei ovviamente riprendere un cammino verso la socialità che è la normalità direi dell'essere umano diventa molto più complicato ecco in questo caso. E questo direi senza coinvolgere quelli che sono disturbi psichiatrici veri e propri ecco ma semplicemente prendendo in considerazione quella che è la fragilità dell'essere umano e in particolare dei giovani in situazioni come questa. Un rapporto dell'AIFA sul consumo di farmaci relativo al 2021 parla di un aumento, un trend costante di aumento dell'utilizzo in Italia di farmaci antidepressivi che dura da un decennio almeno e parla però anche di un aumento consistente e più recente dell'uso di farmaci come gli ansiolitici. Questo deriva dal fatto che sono aumentate le diagnosi di queste malattie o le ragioni sono di questi aumenti sono da ricercare altrove? Beh sicuramente diciamo la depressione è un fenomeno in aumento e questo può spiegare in parte l'aumento di farmaci antidepressivi. C'è poi da dire che l'utilizzo del farmaco e qua mi riferisco più che altro agli ansiolitici è un po' anche una scorciatoia comoda sia per la persona che ha beneficio dall'assunzione del farmaco che anche a volte diciamo per i medici che riescono comunque a ridurre quella che è l'intensità dei sintomi dei loro pazienti. Questo ovviamente però ha fatto con grande attenzione perché rischia poi di generare una sorta di dipendenza e anche un pericolo di abuso del farmaco. Gli ansiolitici in particolare sono gli antidepressivi meno perché il benessere che danno non è in relazione immediata con l'assunzione. Mentre gli ansiolitici che danno un benessere, un sollievo immediato in relazione con l'assunzione sono proprio farmaci che possono predisporre le persone diciamo più in difficoltà a comportamenti di abuso che in quel caso non sarebbero per nulla terapeutico. E cosa sarebbe terapeutico invece invece di questo abuso? Invece di questo abuso beh allora innanzitutto l'assunzione dei farmaci va fatta con le dosi e con le prescrizioni del medico quindi questo è un primo aspetto fondamentale. E poi sarebbe terapeutico magari affrontare quelle che possono essere le motivazioni alla base di questo malessere e questo può richiedere una vera psicoterapia nei casi di un disturbo psichiatrico con una diagnosi ma può anche richiedere del tempo da parte del medico in questo caso del medico di medicina generale che ascolta il suo paziente e magari riesce anche a dare un senso a questo suo malessere senza necessariamente inviarlo allo specialista e ai servizi di salute mentale. Dottore la provincia di Sondrio è tristemente nota possiamo dire per essere spesso indicata come una delle zone in Italia in cui i episodi di autolesionismo che arrivano fino al suicidio sono frequenti e numerosi in relazione ovviamente al numero della popolazione trova riscontro di questo nella sua attività e se ci sono e se è così quali crede che possano essere le ragioni locali di questo fenomeno? Sì purtroppo sì abbiamo tanti fenomeni di gesti autolesivi e qui dobbiamo distinguere quelli che sono i tentativi di suicidio che spesso hanno un valore anche comunicativo sono anche una richiesta d'aiuto da quegli episodi che sono dei veri e propri suicidi a volte con modalità anche molto violente e questo è un fenomeno ovviamente molto complesso in cui la malattia psichiatrica ha sicuramente un ruolo importante però insieme a tanti altri fattori alcuni possono essere legati un po' alla conformazione del territorio perché è noto che ad esempio le ore di luce possono influire nelle zone di montagna così come anche in tutti i paesi nordici nel peggiorare quelli che sono i disturbi dell'umore e anche la conformazione geografica perché ritorniamo sempre al problema dell'isolamento relazionale e sociale che sicuramente è un fattore precipitante quella che è una situazione depressiva ecco certamente la psichiatria ha un ruolo importante in una diagnosi precoce in un trattamento però è uno solo dei fattori che possono essere chiamati in causa su questa problematica ecco perché abbiamo dei fenomeni adesso che non riguardano questo territorio però sono ubiquitari diciamo in tutta Italia in tutta in tutta la popolazione in cui il suicidio può avere degli aspetti di diverso tipo può avere degli aspetti anche filosofici piuttosto che culturali piuttosto che essere legato in alcuni casi anche all'assunzione di sostanze psicoattive in modo in modo in congo qual è la rete di servizi che offre la nostra provincia per chi si trova ad affrontare in qualsiasi misura un problema di malessere mentale beh allora la porta d'ingresso del sistema sanitario è sempre il medico di medicina generale che è una figura assolutamente importante e fondamentale ovviamente per i minori fino a una certa età per il pediatra ecco per quanto riguarda la psichiatria che si occupa degli adulti a partire dai 18 anni il servizio di riferimento è il centro psicosociale quindi l'ambulatorio della psichiatria in cui vengono seguite le persone con qualsiasi forma di disturbo psichiatrico o psicologico dal più grave al più lieve a Sondrio e in poche altre realtà della regione e anche d'Italia abbiamo la fortuna di avere un servizio per l'intervento precoce nei giovani che si chiama Tempo Zero che ha una sede diversa dal CPS proprio perché sia meno connotata in senso medico che si occupa dei giovani a partire dai 16 anni questo è un progetto che viene fatto in collaborazione con la neuropsichiatria infantile per cui Tempo Zero segue, può seguire e valuta le persone a partire dai 16 anni Dottor Risaro, lei crede che ad oggi ci sia ancora il tabù nel parlare di salute mentale o meglio di malattie mentali perché la salute mentale sappiamo tutti che è importante ma magari ci spaventa un po' la malattia mentale ma direi col Covid tutti abbiamo sperimentato alcuni fenomeni che sono diventati ubiquitari e quindi per certi versi questo tabù è stato superato rimane credo in parte quello che è così l'immagine che tante persone anche medici hanno di quella che è la follia cioè quando parliamo di soggetti nell'area delle psicosi che sono esperienze qualitativamente diverse da quelle che può vivere il soggetto normale anche se ci addentriamo in un ambito, in un termine che meriterebbe una trasmissione specifica certamente c'è ancora una sorta di stigma sociale e questo lo vediamo perché per tante persone comunque rivolgersi ancora allo psichiatra è qualcosa che non è semplice la cosiddetta psichiatria minore che poi minore non è ma che riguarda quelle che possono essere le situazioni depressive piuttosto che i disturbi d'ansia, piuttosto che gli attacchi di panico esiste ancora una fetta della popolazione che magari preferisce rivolgersi al neurologo perché questo è più un medico, tra virgolette, normale e non è il medico dei fogli Grazie al dottor Risaro, grazie mille del suo tempo Grazie a voi A tutti voi l'appuntamento è la settimana prossima e io vi auguro una buona serata Grazie a voi